Dunque, benvenuti a tutti, vi parlerò appunto di un lavoro che ho fatto in collaborazione con Roberto Trani, tra l'altro fratello di Salvatore, un altro ragazzo, amico e collega dell'HPC Lab, ed è un lavoro riguardante appunto un problema fondamentale dell'informatica che, come vedete, prende il nome di Minimal Perfect Hashing. E quindi andiamo immediatamente a appunto vedere, a definire in cosa consiste questo problema. Vedete, il problema prende in input un set statico di oggetti, che in questo esempio sono string, ma potrebbero essere entità più elaborate come immagini o video, anche più elementari come dei numeri interi. E quello che voglio fare è costruire questo blocco appunto F, che in questo contesto chiamerò una funzione appunto hash, quindi una struttura dati, che come vedete appunto mappa ogni chiave del mio set S in un numero di chiave del mio set S. La funzione F viene appunto chiamata, prende il nome di Minimal Perfect Hashing Function, e vedete sulla destra ho incluso una lista appunto di lavori pratici, di appunto algoritmi pratici, che sono stati proposti nel corso degli anni, del tempo, per risolvere questo problema dal punto di vista pratico. E quindi questo è un problema appunto fondamentale, studiatissimo in informatica sia sperimentale che teorica. Infatti vedete, ha attribuito ad un spazio che ci assicura che è compresso. Vedete appunto un bit 44 per chiave. Quindi sappiamo già appunto di poterla rappresentare in spazio molto compresso. La sfida è chiaramente come. Quindi come si può costruire una struttura dati compressa di questo tipo. Dunque non mi dilungo molto sul contesto delle motivazioni, sul perché abbiamo scelto di studiare questo problema. Ripeto, è un problema appunto studiatissimo in informatica, anche appunto dal punto di vista pratico. Infatti vi sono moltissimi esempi che appunto leggete qua sotto nella slide di applicazioni di Minimal Perfect Hashing. In generale, dovunque io ho un dataset di chiave, valore, che voglio appunto rappresentare in maniera succinta, quindi spazio succinto mantenendo una, diciamo, elevata velocità di accesso. Minimal Perfect Hashing può essere usato ed offre una soluzione efficiente ed elegante. Per esempio, per appunto, come dire, diciamo a supporto appunto di quello che sto dicendo, potete leggervi una lettura molto interessante, non troppo tecnica. Il seguente blog post di Indeed Engineering, che spiega, vedete appunto relativamente recente, di un paio di anni fa, che spiega come loro utilizzano su base quotidiana Minimal Perfect Hashing per implementare le loro basi dati. Quindi è, ripeto, un problema studiatissimo e molto rilevante in pratica. Quindi per questo problema importante abbiamo di fatto contribuito con la nostra struttura di dati, PtHash, e qui avete appunto una overview, quindi vedremo che è una struttura di dati flessibile, efficiente, libreria e codice, che è chiaramente disponibile gratuitamente alla mia pagina GitHub, altamente ingegnerizzata, nel senso che scala anche su memoria esterna, quindi riuscendo a effettivamente scalare su dataset di decine, se non centinaia di miliardi appunto di chiave, la costruzione può essere anche eseguita appunto in parallelo. Quindi andiamo un attimo, ah ok, prima di vedere qualche dettaglio, volevo dire appunto che diverse persone appunto nella comunità informatica, come Robo Patro e Ryan Kicci, che sono due appunto famosissimi e direi anche bravissimi appunto ricercatori in bioinformatica, diciamo hanno appunto letto l'articolo e hanno trovato molto molto interessante, si sono complimentati. Quindi andiamo un attimo ora a vedere qual è il punto, il cuore diciamo algoritmico di PtHash. Qui bisogna fare appunto un passo indietro nel tempo di circa un anno fa, quando appunto Lessi, questo articolo interessantissimo, pubblicato da Fox, Chen e Nickyth a Segayar del 92, quindi vedete circa 30 anni fa, hanno proposto una costruzione molto semplice ed elegante. L'idea è quella, a grandi linee, di appunto suddividere il mio set di chiavi in un numero di, vedete, buckets. Qui sulla destra avete una immagine, quindi abbiamo le sette chiavi di prima, suddivise in questo esempio in quattro buckets, in quattro gruppi. E l'idea è quella di appunto calcolare per ogni gruppo un valore intero, che viene chiamato il displacement value per il bucket, che come vedete viene usato direttamente nella definizione della funzione. Quindi questa tecnica, ora non ci interessa chiaramente scendere nel dettaglio su come appunto è possibile calcolare questo array di displacement, che è piuttosto appunto complicato e non ho chiaramente tempo, ma quello che mi prema appunto mettere in risalto è il fatto che questa tecnica permette di poter valutare la funzione f in maniera estremamente rapida. Tutto ciò che devo fare è semplicemente un unico accesso in memoria, per ogni chiave devo leggermi, devo essenzialmente ricavarmi il suo corrispondente displacement value, ok? Quindi questa tecnica offre una elevatissima velocità di appunto valutazione. L'altra cosa che mi prema appunto dirvi è che viene scelto un parametro C, che è una quantità potrebbe essere 3, 4, 5, 6, che regola, come vedete, il numero di questi gruppi che vengono creati, il numero di buckets che vengono usati e creati durante la fase di costruzione. E si vede chiaramente, come è intuitivo pensare, il seguente trade-off, che all'aumentare di C la costruzione risulta essere più veloce, ma anche lo spazio di rappresentazione. Quindi da un lato vorrei di fatto utilizzare il C più alto possibile per velocizzare la costruzione, quindi permettere alla tecnica di scalare su dataset enormi, ma d'altro canto non posso usare un C troppo alto, troppo grande, perché altrimenti lo spazio mi diventa troppo grande. E ricordatevi che il lower bound è di 1,44, quindi di fatto questo C può essere piccolo fino ad 1,44, ok? Ma se uso un C troppo piccolo, la tecnica risulta essere troppo lenta. Quindi chiaramente la domanda di ricerca che ci siamo posti e che ha appunto, come dire, motivato appunto la nascita di PtHash è appunto la seguente. È possibile di fatto combinare la velocità di valutazione di FCH con spazio compresso e scalabilità su grandi dataset. Quindi vediamo appunto qual è l'intuizione dietro PtHash. Ora, per motivi che non ho appunto tempo proprio di appunto spiegare, la tavola di displacement che calcola FCH è completamente incomprimibile, perché appunto per motivi legati all'efficienza dell'algoritmo di ricerca di questi displacement, questi displacement devono essere essenzialmente calcolati random. Quindi non c'è speranza di poter comprimere la tavola di FCH. Ma supponiamo un attimo, per un secondo, che questa tavola sia comprimibile. Allora, se è comprimibile, io chiaramente so che se appunto la comprimo, in fondo alla costruzione, userò meno spazio. Ok? Quindi l'idea è quella di usare il primo che è potenzialmente molto più grande di C, perché questo mi consente di eseguire l'algoritmo di ricerca a velocità molto accelerata. Quindi mi consente di appunto costruire la struttura dati molto molto più appunto velocemente e so che una volta che ho finito la costruzione, posso comunque comprimere la struttura dati. Quindi in altre appunto parole, per lo stesso livello di spazio consumato da FCH, con questa intuizione PTH può costruire la struttura dati molto più velocemente. Chiaramente il punto chiave, diciamo il cuore algoritmico di PTH, è appunto un nuovo algoritmo, vedete, di ricerca che deve appunto poter garantire la compressione della tavola. Quindi ora vediamo un attimo più nel dettaglio questa idea. Diciamo ad altissimo livello, quindi volendo essere proprio veramente, diciamo, brevi, quello che appunto andiamo a fare è essenzialmente a cambiare la definizione, vedete, dalla formulazione iniziale di FCH, cambiamo la definizione della funzione nella seguente. Quindi vedete che ancora calcoliamo una quantità intera, K di I, che però non chiamiamo più il displacement del bucket, ma chiamiamo il pilot del bucket, perché è usato in maniera completamente diversa. In particolar modo vedete che calcoliamo il codice hash del pilot e lo mettiamo a bitwise XOR con il codice hash della chiave. Questo perché? Perché, diciamo, che è chiaramente il codice hash di una chiave, di un valore, è essenzialmente un intero random. Quindi supponiamo che appunto la vostra funzione hash da 64 bit di chiave random, voi avrete essenzialmente 64 bit che sono random, dove appunto la, diciamo, la proporzione degli zeri e degli uni è essenzialmente uguale e pari quindi al 50%. Se quindi combinate due codici hash random con il bitwise XOR, ottenete ancora in output una quantità che è random, perché il bitwise XOR ha questa proprietà che... Quindi questo, fare questo trucco appunto con l'XOR garantisce ancora di poter appunto generare posizioni random e la cosa appunto straordinaria è che le posizioni random vengono appunto generate anche se questi pilot K con I non sono random. Quindi io posso rifatto generare questi K con I il più piccolo possibili, vedete appunto in ordine, quindi provando prima K zero e se crea delle collisioni posso provare il secondo piccolo valore, quindi K con 1, che se ancora crea collisioni ancora posso provare il più piccolo valore dopo, quindi K con I uguale 2, eccetera. E quindi questo mi garantisce che la complessità appunto dell'algoritmo rimane identica, ma i valori, ma appunto di fatto i valori che vado a popolare, diciamo col quale vado a popolare della tavola, sono effettivamente piccoli, come vedete qua sotto, e in media altamente ripetitivi e quindi comprimibili. Quindi questa è appunto l'idea, diciamo il cuore algoritmico di PTH. Quindi andiamo un attimo a vedere un esempio un po' più nel dettaglio. Supponiamo che la vostra chiave sia una stringa, come vedete in questo esempio, a view from the top of the world, che il pilot che state appunto ispezionando attualmente è il pilot uguale a 0. Quindi chiaramente partite dal più piccolo. Quindi supponiamo che questo sia il codice hash appunto della vostra chiave, della vostra stringa X, vedete che appunto c'è una proporzione fortemente concentrata attorno al 50% di 1 e di 0. Quindi calcolo anche il codice hash del mio pilot, notate di nuovo una proporzione molto vicina al 50%, e se combino questi due codici hash con il bitwise XOR, ancora vedete che ottengo un qualcosa che è essenzialmente random, di nuovo ancora pari al 50%, con un piccolo bias. Una volta che ho appunto questo codice, eseguendo poi un'operazione di modulo, lo riporto chiaramente, come è tipico nei algoritmi di hashing, lo riporto in una posizione all'interno della mia tavola, in questo caso a posizione 16. Ora, l'idea qual è? Ma se io cambio questo pilot da 0 ad 1, che cosa cambia? Cambia essenzialmente niente, perché se io lo considero adesso uguale ad 1, vedete che ancora genero un qualcosa di random e ancora genero quindi una posizione random in questa tabella. E così appunto per K uguale 2, così K uguale 3, così 4, 5 e così via dicendo. Quindi questo è il cuore algoritmico di pt hash. Quindi viene mantenuta la stessa appunto velocità di fch, ma in spazio altissimamente compresso. Quindi vediamo un attimo appunto, quindi mettendo insieme i pezzi e poi appunto concludo, diciamo vediamo appunto insieme un esempio concreto di qual è appunto il valore di aver compresso la tavola appunto di pt hash. Quindi supponiamo di avere, questo è appunto chiaramente un esempio pratico vero, quindi un esperimento di fatto reale, quindi sto riportando numeri reali. Quindi supponiamo di avere un dataset di 100 milioni di chiavi, in questo caso le chiavi delle numeri random e supponiamo di eseguire fch con c uguale 3. Quindi so che con c uguale 3 fch consuma 3 bit per chiave e impiega, vedete, più di un'ora per costruire la struttura dati, un'ora e dieci minuti. Ebbene esiste una configurazione di pt hash, vedete che usa un valore di c che è notevolmente più alto, più di due volte più grande rispetto a fch ed un particolare appunto compressore che abbiamo descritto nel nel lavoro, ma di quel modo di parlarvi, vedete che con questa configurazione otteniamo meno di 40 secondi. Quindi uno speed up di due, di più di due ordini di grandezza. E molto importantemente, se eseguo il look up sia con fch sia con il pt hash in questa configurazione, entrambe raggiungono appunto un'estrema velocità appunto di look up, 35, 37 nanosecondi per chiave. Quindi questo è il valore appunto di pt hash. Quindi per lo stesso livello di spazio la costruzione è estremamente più veloce rispetto a fch, quindi permettendo di scalare su grandi dataset. Ho diciamo praticamente finito, quindi andando a concludere, semplicemente volevo appunto mostrarvi qui che abbiamo chiaramente comparato, che ne abbiamo eseguito moltissimi confronti della nostra tecnica con tutte le altre tecniche proposte allo stato dell'arte, quindi vi invito appunto a dare un occhio a questa tabella che poi vi trovate anche chiaramente negli articoli. Se confrontate appunto le righe, vedrete appunto che pt hash domina qualsiasi altra tecnica che è stata proposta allo stato dell'arte. Quindi questo è un semplice benchmark in internal memory, ma se guardiamo anche cosa succede su memoria esterna, quindi vedrete su dataset molto grandi di chiave, come appunto 8 miliardi o 5 miliardi di string, vedete che ancora una volta pt hash domina. Ora senza entrare appunto nel dettaglio e commentare numero per numero, ma vi invito appunto a dare un'occhiata ai seguenti due articoli, quindi un primo pubblicato su Sigaiar, un secondo sottomesso a Journal, e appunto vi accorgerete di quanto pt hash è meglio rispetto allo stato dell'arte. Grazie, vi ringrazio dell'attenzione, chiaramente se siete interessati in problemi di efficienza, come per esempio questo, ma anche altri, siete chiaramente invitati a scrivermi, anche semplicemente per una chiacchierata.